Steph su forza dobbiamo evadere muoviti muoviti No Ferre io voglio scontare le mie pene in modo normale guarda non voglio rischi sinceramente No Steph dobbiamo evadere ascolta vai nella tua scrivania ho nascosto una chiave tutta per te e prendila e scappa muoviti Ferre ma come hai fatto a nascondere? Ferre quando l'hai fatto me lo spieghi? Non ti interessa Steph muoviti e pensa a uscire Arrivo Ragazzi come va? Io sono Ferre Niki E sono Steph e se ti chiamo è Roblox E torniamo su Roblox con un nuovissimo escape Questa volta dato che siamo anche a tema in questo periodo cercheremo di evadere da una prigione Esattamente da quanto è che non facevamo un escape Ferre? Tantissimo non ne trovavamo più Già 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 Quindi è uscito questo e ne approfittiamo Però finalmente ne abbiamo uno interessante dobbiamo evadere dalla prigione Non credo che sarà facile ma Ferre Niki è un'esperta di evadere dalle prigioni Quindi io seguirò lei Allora Ferre verso dove dobbiamo andare? Fammi strada Qua 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 Ok Ovviamente fai attenzione perché qui ci sono i laser Sono mortali in questa prigione Allora vai tu prima per favore Fammi vedere come Perché non mi piace avere gente in mezzo Perfetto non c'è più la signorina Vabbè perché è scarsa Te l'ho detto io che sono mortali però faccia attenzione Steph Va bene arrivo Ferre perché hanno messo il The Flourish Lava pure qua? Perché va di moda questa è una prigione all'avanguardia Mi sembra logico Se seguono pure le mode del momento Certo certo Mi sembra logico Quindi troviamo la trappola che è un fidget spinner che gira Ferre Allora se tu qui esci dalla prigione E non sei le mode del momento Come fai a reintegrarti nella società? Ok hai ragione È giusto così Come fai a fare i likes su Facebook e su Instagram? Certo certo Ok ok No hai ragione guarda Quando hai ragione hai ragione Quindi mi aspetto anche un fidget spinner più avanti E magari una canzone di Rovati Assolutamente sì Qua dice di non toccare l'acqua Siamo passati a The Flourish Water Quindi stai attenta Da che partiamo? A tutto il giro Tutto il giro Vai 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 forza 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 Dovete passare in mezzo alle guardie che stanno sparando Ma cosa vuoi che dì a Steph? Muovetevi attentamente Dai ma cos'è? Sei sicura Ferre? Non sai neanche schivare un proiettile Steph? No 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 Come? Come non lo sai schivare? Buongiorno guardie Possiamo passare Oh mamma mia Devi fare attenzione Steph Devi avere un po' il tempismo Ma poi hanno i fucili a pompa Capito? Sì sono cattivissimi E beh giustamente Stai evadendo Scusi mi puoi dare la sua arma? Steph ti uccide Steph ti uccide Tranquilla Ferre Andiamo 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 Vedi? Questo mi piace già di più Ci sono delle ciambelle Ed è già una cosa Che mi piace di più Ferre Ferre ma il cancello è chiuso Come facciamo ad andare avanti? Dai bagni ovviamente Steph Dai bagni Ferre Certo Dalle tubature Ma nei bagni si fanno i bisognini Non è che si scappa di solito No si scappa pure In tutti i sensi Ah sì? Sì 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 Stavo anche per morire Quindi di qui? Dai Hai preparato questo tunnel Ferre? Certo Buttati Steph Andiamo Allora lo spettacolo sotto Non è dei migliori Però accontentati Steph In qualche modo bisogna Pur sempre scappare L'importante è fuggire no? Stiamo scappando da una prigione Non è che stiamo andando In villeggiatura qui Quindi ti devi accontentare Ma tu sei più felice Vabbè capito Ti ho detto Sei più felice di cosa? Che sei più felice Quando scappi da una prigione Che quando vai in villeggiatura Ferre Quindi Eh lo so A te piace pure questa zona E mi spieghi che cosa c'entra Un tempio antico Con la prigione Lo scappare Magari sotto la prigione C'è un tempio antico Di cui nessuno era conoscenza E noi stiamo scappando Tramite quello Ok va bene Ci prendiamo pure il tesoro Visto che ci siamo Così Lo spero Spero che ce ne sia uno Partiamo anche con qualche soldo Nella nuova vita Potrebbe far comodo In ogni caso Per ora è abbastanza semplice Ma so già che mi pentino Di averlo detto Che è successo Steph? Ferre Hai preso Una via di fuga migliore No non è vero Hai visto male Non è successo nulla Ferre Com'è quella via Ma devo andare anche io Alla migliore Sì Tranquillo Tranquillo Vado mi butto C'ho dei cuscini sotto Posso chiederti Allora come mai Sei dietro di me Perché ti stavo aspettando Avevi dimenticato qualcosa A casa Ferre Sì Sì E che cosa avevi dimenticato Eh non te lo posso dire Va bene Ferre Che c'è Devi Devo Cosa devo fare Smettere di mangiare dolci No quello è impossibile Altrimenti No 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 Non riuscirai più ad essere in forma E a scappare dalle prigioni No ma ce li esco benissimo No Ferre Ho bisogno di questi consigli Guardami bene negli occhi Eh ti sto guardando negli occhi Chiunque tu sia Tu non potrai fuggire Se non rinuncerai dolci Hai capito Dio Stef Non puoi dirmi queste cose Io scappo lo stesso Ciao Stef Attenta Ferre Qua si scivola facilmente Io te lo dico Tranquillo Concentrati E non sbagliare Occhio che diventa sempre più stretto È un notato Ferre È un notato che è più stretto Quindi vedi di stare attenta Attenzione Stef vuole fare un sorpasso Sì 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 C'ero quasi L'intenzione c'era No Stef non c'eri per nulla Mancava lo spazio però Stef lo sai che sono la regina della prigione E mi danno sempre dei regali Non è vero Ferre Vuoi sapere cosa mi ha dato Ogni volta te lo inventi Allora lui è un mio amico Vuoi sapere cosa mi ha dato Lui è tuo amico Sì Sicura Ok fammi vedere allora che cosa ti ha regalato Allora se non fosse mio amico Perché mi avrebbe dato questo bellissimo fidget spinner Ferre Hai davvero un fidget spinner Certo Te l'ho detto che in questa prigione Siamo all'avanguardia E bisogna capito Aiutare i detenuti A reintegrarsi nel mondo vero Quindi quando esci Se tu hai degli amici Invece non ne hai Perché sei una sociale Capito Ti danno le cose per E quindi mi hanno detto Elena me ne puoi dare uno Così inizio a fare amicizia anche io con le persone No Stef ne ho solo uno No Quel rosso è il mio colore preferito Quindi mi dispiace Va bene Solo per me Grazie Ferre Però gira poco Hai notato che gira poco E vabbè In prigione hanno quelli un po' difettosi Me lo rimetto in tazza Sicuramente costa poco Quindi da un euro Questo tizio mi sa che Ci sta facendo capire Che non dobbiamo toccare il pavimento Però se vuoi vai a controllare Sì ma non dobbiamo mai toccare i pavimenti In questi livelli E lo so Però non si sa mai Magari per una volta ti distrai Allora Stai attenta che lì anche Fine 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 Qua bisogna fare qualche salto Bello di precisione E adesso andiamo avanti Ferre Timi Eeeh C'è un posto strano Eh sì Siamo sempre in posti strani Allora Credo Che dobbiamo saltare in queste corde Eh sì Eh no Oh cosa No 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 E poi Qui un po' troppo Sali Cosa No ma questa meccanica Non l'avevo mai vista Devi Ristaltare in avanti Oh ma Ma mia C'è facciamo Tarzan qua Guarda che figo Opla È bellissimo Non l'avevo mai visto in nessun Ma perché continua a cadere Non l'avevo mai visto in nessun parkour Questo è fighissimo A me non si è aggrappato Ferre Aspetta Io non ho Uno Punta sempre dietro Due Tre Ok Mi cadi sull'ultimo Ho sbattuto E punta sempre dietro Ho sbattuto Dove Era troppo in alto Ma nel tronco Ok muoviti dai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Dopo 200 tentativi Non è vero Bellissimo 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 Ferre Adesso ti faccio Cadere Volevo far cadere A te Non volevo cadere io Io volevo solo evadere Non volevo fare tutte queste Peripezie all'interno della prigione Per evadere bisogna fare cose comunque difficili Altrimenti Sarebbe facile Uopla Bravo Steph E adesso di qui Perfetto Perfetto Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ce la faccio Steph Rimango qua Non eri l'esperta Ferre Sì ma di evasioni normali Non di queste diavolerie La stanza è piena Aspetta 20 secondi Per che la porta si apra Cosa? Ferre Allora dice che c'è una trappola Eh lo so Dobbiamo andare Vai 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 Ferre È chiuso la porta in faccia però Eh ma si chiude da sola dopo un po' Allora Mi aspetti Mi faccio uccidere di proposito Praticamente Dobbiamo farlo assieme Hai 20 secondi Per fare un parkour Dove c'è la lava di sotto Dopodiché scende una palla gigantesca Che ti schiaccia E ti uccide Ok dai ti aspetto Ti aspetto Capisci? Ma dai Surricciamo dritti Ci sono Steph E dobbiamo essere velocissimi Ferretti Buccol Fidget Spindertelo giuro Guarda Andiamo Eh Steph ti ha ucciso Non conviene uscire così in fretta Steph ti ha ucciso Lo so fare me ne sono accorto da solo Io ti ho visto morire Poi sono uscita E sto andando dritta Grazie Spero che tu inciampi Il momento del riscatto è arrivato Steph mi stanno uccidendo Lo vuole fare tutto di fila Lo vuole fare tutto di fila signori Serpentina Serpentina Aiuto 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 Dai che non cado Dai che non cado Continuo Corre salta Salta di nuovo E ce la fa Bravissimo Bravissimo Ok Non esulterei così tanto Fosti in te Ciao fare I fallimenti però Intanto sono più avanti di te Zitto Siamo in una miniera Ok Allora click or tap Allora Ferre io ho già capito E non mi piace Dobbiamo andare in un minecart Ok Seguire tutte le ferrovie E cliccare al volo Quando c'è il bottone Steph c'è una persona Che non dovrebbe esserci qui sopra Adesso io sono pure morto Ma come Aiuto Aiuto Steph Sono da solo Ferre Mi spiace Divertiti Allora Del tuo tragitto E c'è Penso sia buggato Steph Perché Perché quando premi Per far passare Adesso lo vedi Ok Aspetta Il genere che devi premere Per far passare il binario Ti scompare il carrello E muori Ma a me è già scomparso Vedi Non è molto Ah Quando preme qualcuno Fa scomparire il carrello Ferre Ah ok Ok Dobbiamo farlo una alla volta Sì ma c'è una tizia Che non lo capirà mai Eh lo so Allora speriamo che lei lo finisca in fretta Ok Allora 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 Dov'è la signorina È qui Oh mamma mia Ce sta pure mancando Manca anche il carrello ogni volta Steph Ti prego Vai brava Brava Adesso vai Ok Lasciamola andare Lasciamola andare Facciamo una preghierina Speriamo che c'è la faccia Speriamo che ce la faccia Ha anche scritto stop Ah Quando era prima che lo sa fare Ok Allora Cos'era quel rumore Ferre? Ferre secondo te sta bene? Non lo so Lo spero Premo il pulsante Aspetta ancora Aspetta Perché se torna qui Guarda La uccido Cinque Quattro Tre Aspetta Aspetta Due Uno Io vado No Non è fatta tornare qua ste No 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 È morta da sola Ferre Questa qua non riesce a premere Guarda Guarda Adesso non mi prende Mi toglie No Guarda Non ce la può fare Non ce la può fare ste Can you wait a moment If you take the mine Car Non ce la fa Non ce la fa ste We can't go Ferre non so come sono riuscito a farla crashare Facendole un bug della Proprio stranissima In ogni caso vado dritto Vai 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 Premo il pulsante Io non so come faceva a non riuscire a premere il pulsante Però Perché penso la gas Non riusciva neanche a salire sul carrello Capite Alla fine si è stancata No Aspetta Sono morto anche io Ferre Cioè non dirmi che è buggato ste È strano Fammi provare Allora Prova tu Prova tu Prova tu Prova tu Vediamo Praticamente io ho premuto il pulsante Ma rallenta all'improvviso E muori Adesso vedete Noi dobbiamo aspettare Quando manca pochissimo Lo premiamo Tipo Ora Ok vai Ok adesso Noi passiamo Riaspettiamo E all'ultimo premiamo Perfetto E poi scendi stef Ciao Ferre Ecco qua Tutto a posto Tutto a posto Fammi prendere il checkpoint Perché non voglio mai più vedere quel livello Te lo giuro Ok Ok Ferre ce la fai? Sì non mi faceva passare attraverso il muro Guarda qua ti vogliono fare una foto Voglio farti fare la foto Oh che bello Aspetta 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 Non penso Però a me i flash non piacciono Quindi li devo evitare Ok Oh Aiuto Ma come funziona? Non lo capisco stef Aiuto Io ce l'ho fatta a caso Ferre Vai 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 Non sono riuscito a capire il sistema ma ha funzionato Ok da questa parte si può anche andare qui Possiamo disattivare qualcosa? No Checkpoint nuovo e siamo nella palestra Mi sa che bisogna passarci sotto? O bisogna saltare? Non lo so stef Brava Ferre Ho fatto un tentativo io ora tocca a te No sotto non ci passa Allora Devi fare un salto incredibile È altissimo Sì Uo Ok Uo C'è sì Uo Mamma mia stef No è impossibile È impossibile Uff Ferre Questo è faticoso eh Te lo dico Questo è davvero difficile Dai brava Ok Tutta questione di saltare all'ultimo Lo sai Ok L'ultimissimo Ferre Olè Perfetto Perfetto Tenta non premere il giallo Che se no muori anche così Dopodichè Nuovo checkpoint E c'è il filo spinato Ecco qua Non poteva mancare il filo spinato Mi sembra giusto Forza però Anche questo è abbastanza semplice Altissimi eh Altissimi Go under the fence Va bene vado Ok andiamo Grazie per aver fatto un po' per voi Ferre mi sa che dobbiamo prendere la barca Ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Riusciremo a prenderla in due Lo spero Perché secondo me è come prima Anche secondo me Anche secondo me Vediamo Opla Uff Carino Ce la facciamo? Oddio Più o meno Ce la fai Ferre? Più o meno Steph Sei un po' bagati Eh Addio No ce la faccio Io ti vedo in acqua Però va bene No no ci sono Ci sono Ok Ferre Allora Si devo salire Ok Mi prendo subito questo Mi prendo subito questo E ce l'ho fatta Ti aspetto di qui E nel mentre guardo Arrivo Allora Che lento che è però Uuuu Lo sai che se sali su questo elicottero Ti fa andare dritto A Rob the Bank O B Che sarebbe quello di rubare la banca Che se ricordo bene abbiamo già fatto Si abbiamo già fatto Carino Perché praticamente tu scappi dalla prigione E poi vai a fare una rapina in banca Per farti qualche soldo Così poi torni in prigione E riscappi dalla prigione E continui all'infinito Spera che ti piace Scusateci per il like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao